...senti regola sta radio qua che non so tanto convinto che ci sarai. Io lo so che tu mi vuoi bene, lo so che quando mi ascolti si avvisa tutto. Alessandro, ascolti Luca e Gianluca qua che stai in fase di riposamento. Però a un bel certo punto ho sentito la tua modulation, il sorrento del reuto, kappa kappa. Adesso nel canale 45, Alessandro, capitano Arlock, in arte l'immortale di Policoro, ascolti Luca e Gianluca sul 45esimo binario, kappa kappa. Alessandro, ascolti Luca.